L'intervista più importante della giornata, l'uomo che si è spezzato il filo della schiena per fare in modo che la gara potesse essere portata, Damiano Marchesano. La grande novità di quest'anno, la possibilità di tenere sotto controllo la gara in maniera digitale. Damiano, ti abbiamo visto particolarmente impegnato, ma ha segnalazione dei Marshall e verifica in tempo reale sul monitor della race control room. Come ti sei trovato e che impressione hai di questo sistema? Quest'anno abbiamo dotato tutte le curve di una telecamera, così possiamo andare a vedere ogni istante, quando vogliamo, gli incidenti di gara. Quindi i Marshall segnalano eventuali incidenti e noi andiamo a controllare per una penalità o un avvertimento. Sei pronto per prendere il posto di Serafin l'anno prossimo come direttore di gara ufficiale? No, il direttore di gara rimane Serafin e non si cambia. E allora per adesso Damiano rimane dietro le quinte, ma è lui e poi alla fine che controlla tutto. Damiano Marchesano grazie, alla fine dai possiamo dire vice direttore di gara. Grazie.